Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrink e bentornati su Xenoverse per Aspera d'Astra. Lo chiamo un po' Xenoverse, un po' Xenoverse, un po' come viene. E sicuramente avrete già notato, se siete attenti, che nella schermata dei Pokémon ho finalmente fatto evolvere Elekid in Electabuzz al livello 30 e ho catturato Manticore. Manticore è un Pokémon che non sapevo neanche esistesse e quando l'ho visto ho detto Wow, che figata? Sicuramente si evolverà in qualcosa di stupendo, dovrebbe accadere intorno al livello 30 se non erro. L'ho chiamato Olasil, perché a guardia di Olasil è posto il Guardiano del Santuario e il Guardiano del Santuario è una Manticora e quindi da lì il nome, Olasil, non Guardiano del Santuario. Comunque oggi ci aspetta la sfida in palestra contro la Capopalestra Verbena. Bentornato Link, allora sei riuscito ad incontrare il nonno? Fantastico, sapevo che il nonno avrebbe saputo tirar fuori il tuo enorme potenziale. Sono certo che ora risolverai la questione nel Canyon in 4 e 4-8. Ma prima ti aspetto nella mia palestra, ottimo. Sappi che non sarà una sfida semplice. Ci vediamo dentro. Lei ha la Capopalestra di tipo acqua, quindi Shackbird avrà il suo bel da fare qui dentro. A dire il vero potrei far evolvere Endevar e Leptabuzz subito nella sua forma finale, perché ci vuole la Xenolite, ma penso che aspetterò qualche livello. Vorrei portarlo al 45 mi sembra che impari Lanciafiamme, ho letto nella wiki, però non ne sono tanto sicuro di voler aspettare fino a quel livello. La guida ci chiede in cosa è specializzata la palestra e si è specializzata nel tipo acqua. Quindi il tipo acqua è debole contro elettro e suono, in modo da avere un vantaggio comunque sia anche se hai scelto un Pokémon di tipo fuoco come starter. Devo affrontare diversi percorsi, il primo è denominato la salita del Farfetch. Il piano è disseminato di pedane con sulle effigie di vari Pokémon sulle quali dovrai farti strada. Devi decifrare gli indizi in maniera giusta. Quindi il primo che abbiamo è un Panser, a dire il vero. Ma scusami se io continuo a scendere invece? Ah, nel caso sbaglio devo poi risalire, ok. Dunque, il sentiero del Farfetch. Ma cosa devo fare di pre... non c'è scritto. Ah, ecco. Cammina sopra la foglia. Ok. Se non sbaglio è questa qui. Bene. Ecco qui l'ifeon e questo qui. Aha, ma quindi se io casco devo affrontare gli allenatori, giusto? Faccio solo la prova. Faccio giusto la prova. Sì, devo affrontare gli allenatori. Non che sia un male. Diciamo che è un po' come il... Come la palestra di terza generazione finale. Che devi passare sopra gli specchi di ghiaccio per far apparire la scala. Se ci passi sopra due volte caschi di sotto e affronti gli allenatori. Bene, vediamo poi il secondo. Cammina sopra il fuoco. Però anche questo è un allenatore. Ah, doppia sfida! Aha! Dunque sopra il fuoco, quindi basta fare così. Volcarona è tipo fuoco. Tacchete, tacchete. E ora cammina sopra... Cammina sulle acque. Ok, bene. No, di cos'è? Sopra l'acqua. Ah, no. Lì c'è Malamar, ma Malamar è buio. Non è acqua Malamar. E' buio psico, mi pare. La cosa buona è che Sharkbird presto si evolverà nella forma finale. Ed infatti cammina sulle acque, vedi? Preciso. Tacchete, vedi? È fatto apposta per farti sbagliare, no? Dici, ah, Malamar è un Pokémon, Medusa, Calamaro, quello che è. E quindi cammino lì. E invece no. No! La fortuna fa parte del gioco. Ah! Ok, quindi, dato che prima era erba. E poi era... Acqu... Erba. Ok, tutta fortuna. Tutta fortuna. Cosa? Ah, c'è qualcosa all'interno di questo artefatto. Cos? Ma tutti quanti oggetti rari. Ragazzi, sto trovando oggetti rari a caso. Ragazzi, allora, sono caduto, no? Verso... Stavo andando dal capopalestra, ma sono caduto. Però ho trovato una fessura e ho detto, vuoi che spruzzare... Vuoi che Shulong spruzzi dell'acqua in questa fessura? Sì. Ok, quindi sono entrato. Dico, ok, andiamo sopra. Magari la capopalestra è qui. No. C'è Kofagrigus. Shiny, tra l'altro, credo che sia. Quindi. Kofagrigus. X. Oh. Mamma mia. È Shiny, è Shiny. Quindi era Shiny anche nell'overworld. Io avevo letto già che c'era Kofagrigus Shiny. Proprio mi sono spoilerato le sciocchezze, per fortuna. Non è super efficace. Oh, io. Ah, ma non è Kofagrigus Xenoverse. Ah, è semplicemente Kofagrigus Shiny. Meglio così, posso catturarlo senza problemi. Vado con un Ultra Ball per proprio essere sicuro di prenderlo. Ok. Pokemon Baras, tipo spettro. Inganne razziatori di tombi con il sospetto la barra preziosa per poi punirli. Il suo corpo è ricoperto di oro puro. Quindi, dato che è Shiny è Platino o Argento, che cosa... Bene, sono contento di averlo trovato. Non per qualcosa, ma... Corona antica. Cosa, ragazzi, sto trovando roba. Si può vendere a un prezzo alto agli intenditori. Vediamo se ho capito. Qui, poi qui, poi qui, e qui. Perfetto. Ci siamo, allora. Mi scusi? Salve? Sì, sono riuscito a raggiungere fino a lei. Ora, la dama ha un non. Dovrei spostarti tra le caselle seguendo l'alfabeto a un non da la A alla Z. Tuttavia, il percorso è irto di insidie e potresti dover ripercorrere più volte i tuoi passi. L'intuito e la fortuna sono la chiave di questo gioco? A, B, C, D. Ah! E devo sfilarli pure. E se ne va rivelandomi una casella. A, B, C, D, E. A, F, G. B, C, D, E. F, quindi questa è la G. La H. Ah, sì, perché poi c'era rosa quell'altra. Vai, affrontiamo anche questo. Vuoi un consiglio? Ma è espitare un consigliere. Questo è furbo. Andiamo sulla I. Aha! Ok, questo è di una vola I. L, J, K, L, E. M! Oh, l'ho trovata! N. O. Oh, ragazzi, proprio sto andandola grande. Wow! Perfetto. Andiamo sulla P. Andiamo sulla Q. Andiamo sulla R. E poi... No, vediamo qua la Q. Q. R. S. T. Ok, perfetto. U. Ok, no. Quindi era sopra. Perfetto. W. Eccola qua. X. Questa. Era grande. Y. E questa qui. Poi c'è la Z e abbiamo finito. Meno male. Al 34 si evolve! Si evolve Farrowl. Vediamo un po'. Uh. Sono molto, molto contento. Quindi al 34 diventa la forma finale. Ragazzi, con la forma finale e la forza di attacco diventa enorme. In Harrowl, giusto? Harrowl, non Harrowl. Allora io ho ancora il disegno vecchio con la scritta Harrowl. Harrowl. Beh, ho il disegno vecchio, ma è solo il nome sbagliato. Il disegno è lo stesso. Oh, che succede? Z. Ah, eccomi. Wow. Questa palestra se l'è fatta tutta quanta lui. Sono molto soddisfatto. Ah, ma qui c'è l'erba. Ci sono Pokémon? Exeggutor? Ho premuto a caso su un Exeggutor! Ma Cofagrigus? Ma così? No, aspetta. Eccolo. E ci sono Cofagrigus. Apriamolo. C'è una perl'acqua per raccoglierla? Perl'acqua blu. Ma ragazzi... Ah, c'è un nemico. Ma non lo so, io sto facendo... Vi premuto a caso sugli Exeggutor di Alola. Dico, aspetta, ma questa non è una statua. È un Pokémon, vero. E mi... Vado qui, trovo cose. Ma è stupendo, è stupendo. Magari sono cose che loro dicono... Mettiamola qui. Chi la trova riceverà una bella ricompensa. Ok, qui ce n'è un altro. Apriamo sto Sarcofago. Non c'è nulla. Ah, c'è una guardia. Ah, la perl'acqua. Rossa. Ok, ho capito. Ma servono a qualcosa? Sì, perfetto. Ecco anche l'ultimo. Boh, a botta sicura? No. Ehm, di qua dico che è. Sì, è di qua. Sì, vai, mi risparmi una lotta inutile. Uno è vuoto, uno c'è la perla e uno c'è uno che vuole lottare. È superato con incredibile maestria anche il secondo gioco. Ora non rimane che la terza ed ultima sfida della palestra è il gioco della palma. Come puoi vedere, questa è una zona ricogliosa per merito dell'acqua miracolosa che vi sgorga. I protagonisti di questo gioco sono gli Exeggutor. Sotto alcuni di essi, infatti, se c'erano delle stanze, nelle quali dovrai recuperare le per l'acqua. Ok, abbiamo fatto. Ora mi vedi nelle vesti di Abbas. Consigliere della regina, ma in realtà mi conosci con un altro nome. Joele. Ah, ok. Ripagherò il tuo aiuto con una lotta a Pokémon. Certo, perché no? Confitto facilmente, vai. Ok, la conchiglia, abbiamo messo la perla, anche quella blu. Compare per magia. E voilà! Eccomi qua, cara! Che succede? Ti stavo aspettando. Ti do ufficialmente il benvenuto alla sfida finale del gioco della palma. In passato questo gioco era noto con un altro nome che io personalmente preferisco di gran lunga. Il gioco di Lillipap e Lucario. Che nome carino. Beh, un indifeso cucciolo come Lillipap alla fine della fiera verrà divorato da un predatore. Hai già capito chi sarà Lucario, vero? Preparati a lottare con tutte le tue forze. Ma che cosa? Eh? Perchè? Sei cattiva? Un Corsola. Mmm, nice. Molto bene. Direi di partire con Scintilla, tanto è roccia acqua, quindi va alla grande. Se era acqua terra, era un bel problema. Ho sciottato. Manderà Brion. Ah, però... Eh, mi aspettavo di vedere di Pokémon di... Di Alola, effettivamente. Era ora che si facessero vivi. Vediamo un po'. Uh, Brion non è sciottata. Però è paralizzata, attenzione. Idrovampata, fa male comunque. Ok, non mi ha scottato. Ah, lei perpozza il suo Pokémon. Sembra che però rimane paralizzato. E ora verrà anche finito! Pintilla per abbrustolirlo per benino. Sì, perché l'elettricità abbrustola, signori. Abrustolisce. Qua c'è appuntino. Oh, Myrotic è molto pericoloso. 45 punti salute. No, vorrei dire... Eh, sì, è molto forte Myrotic. Ah, andiamo con Tianlong che tanto è tipo Drago. Un bel dragartigli, proprio nermuso. Eccolo qua. Cosa? Non gli ha fatto nulla. E ovviamente acqua da Drago. Perché no? Perché no? Dato che Endevar ci prende solo le botte, ha Conchinella. Avanzi! Ha Conchinella preferirei. Cerco di installarla un pochino con... Banni, faccio Bruciapelo. Si perde un po' di PS che recupererà sicuramente con Avanzi. Ma oltre Malotic ha un altro Pokémon. È questo che mi preoccupa. È molto forte. Sia in difesa che in difesa speciale. Boh. E poi è pure più veloce. Cavolo quanto toglie. È tremenda. Se la paralizzo però... Oh! Brutto colpo! Yes! La fortuna aiuta gli audaci. Già. E l'ultimo è Kofagrigus. Oh! Ehm... Ok. Ah! Mi sembrava strano, infatti. Dico, ma come? Non è un Pokémon Xenoverse? E lo è. Lo è. Tipo acqua. Bello. Molto bello. Però è anche roccia. Forse. Sapete cosa però Harrowk? Mi piaceva il nome Shackbird. Quindi magari... Sharrowk. Così, no? Molta fantasia. Possiamo farcela molto facilmente, credo, eh? Se Dragaspiro paralizza... Mamma mia, ragazzi! Oggi che succede? Ma che succede contro questa capopalestra? Ebbè, Dragartigli e Bonacocci è finita. Alla grande! No, ancora no. Cosa? Che è successo? Ah, ok. Niente. Non ricarica sto Kofagrigus. Bene, bene, bene. Wow. Wow. Non troppo difficile. Mi sono un attimo preoccupato quando mi ha fatto fuori Harrowk con un solo attacco, ma ok. La tua squadra è stata impetuosa come uno tsunami. Grazie. Molte grazie. Yes. Che battaglia entusiasmante. Link, sei davvero formidabile. Farei ancora molta strada, ne sono certa. Con questa medaglia sei già a 4-4. Non sei più un allenatore qualsiasi. Hmm. È la medaglia Marea. Emblema della mia palestra e della tua vittoria. Ho anche un altro piccolo dono da farti. MT-55. Idrovampata? Spero. Idrovampata, bene. Dirigita Rest, ma fa attenzione, mi raccomando. Con questo potere nelle tue mani, gli avversari che ti separeranno dinanzi saranno sempre più temibili. Buon viaggio. E sappi che, se ne avrà bisogno, sarò sempre pronto a darti una mano. Ok. Quindi, con il potere che ho acquisito, siamo pronti ad andare nel canyon. Buono. Il canyon credo che si trovi qui in alto. O qui in basso. Se noi usciamo qui a percorso 7, ecco, adesso non c'è più nessuno. Dove ci porta? Ah. Qui ci sono i Pokémon Xenoverse. Ecco perché non ci faceva venire prima. Boh, è un po' che sto girando e non li trovo. Però, beh, bacca Eden, insomma, non è proprio male. Va bene, ragazzi, il video termina qui. Allora, io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, ovviamente, che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye. Ciao. 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 Grazie.